vale la pena di visitare la libreria Lello No, perché no, calida e puro, no, non posso credere che ci sono che il misterio sensual di tua risa congine e si ha fatto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci sono tantissime persone che naturalmente posano per i selfie, forse si dovrebbe fare il concorso per la ragazza più bella, a patto che si metta gli occhiali da lettura. Mentre per quanto riguarda i libri e la lettura forse non ne vale la pena. E mi spiego qui. I libri che la libreria propone sono i classici della letteratura mondiale, spesso i classici della letteratura in lingua inglese. Quindi se siete persone che hanno già letto i classici, allora forse non vale la pena. Questa scelta è studiata per far comprare alle persone dei libri e consentirgli di recuperare gli 8 euro del biglietto d'ingresso. Forse si potrebbe arricchire un po' l'offerta con maggiori contributi di letteratura contemporanea. Però è bello vedere tante persone in una libreria, è bello vedere le immagini dei grandi scrittori, la lista dei vincitori dei premi Nobel. E quindi tutto sommato, se siete qui a Porto, visitatela, fateci un salto. Grazie a tutti.